benvenuti benvenuti cari amici siamo vi di questo nuovo video naturalmente come sempre ricordo di distruggi per toni like, iscriviti al canale, iscriviti al canale tegram oggi andiamo a parlare di bitcoin ok perché abbiamo testato i 42 mila dollari andremo a vedere quelle che sono le principali ragioni ma andremo a vedere anche ethereum, polkaot, solana, avax e infine ave per cui iniziamo subito perché bitcoin perde il 5 per cento e la fed conferma l'inalzamento dei tassi interesse per 2022 però che cosa c'è da sottolineare è vero che il bitcoin è calato però è calato anche lo stock market abbiamo visto il nasdaq che ha perso il 3.3 per cento quindi non vedo alcun problema al momento per quanto riguarda bitcoin e il mercato delle criptovalute in molti ineggiano il fatto che il calo sia dovuto a quello che sta avvenendo che in kazakhistan sostanzialmente sono state chiuse le mining pool e c'è stata una profonda protesta ma non penso che il kazakhistan abbia questa forza ok di dipare bitcoin ma naturalmente sono le balene che si sono messe d'accordo lo hanno dipato e secondo me ok lo ritireranno su. Andiamo a vedere quello che ci dice tech dev perché sostanzialmente sembra essere la stessa situazione che avevamo già visto nel 2019-2020 dove c'era stata una consolidazione in quel caso a 9 mila dollari eravamo sulle 0.38 di fibonacci quindi sembra che stia esattamente avvenendo lo stesso guardate anche tutti gli indicatori sembrano proprio dire questo quindi attenzione perché da qui poi potrebbe innescarsi un bel rally che potrebbe portarci o che secondo me verso i 100 mila dollari naturalmente questa rimane la mia idea. Ora sembra proprio che la share rate o che in kazakhistan ha fatto perdere il 12 per cento ok per quanto riguarda le mining pool di bitcoin ma vediamo come tutto il settore della share rate è calato guardate qui da questa tabella tutto è calato per cui non è il kazakhistan ok problema voglio sottolineare questo elemento. Recentemente abbiamo avuto anche delle liquidazioni long su bitcoin per 110 milioni di dollari in 15 minuti che hanno creato una piccola reazione a catena e ad oggi naturalmente c'è estrema paura quindi quando c'è estrema paura come dico sempre io quando il sanguisco nelle strade allora è lì che bisogna acquistare o che è più razionale non bisogna acquistare in salita ma bensì in discesa se naturalmente credete in un asset e secondo me non siamo assolutamente in bear market e ci tengo a sottolinearlo. Detto questo vorrei riportarvi anche questo tweet di salsa tequila perché che cosa ci dice che bitcoin non sta andando giù ok cioè sta andando giù ma sta andando giù perché ci sono che le balene che lo stanno tirando giù e secondo lui li tirano su quindi se voi avete venduto vi stanno sostanzialmente rubando soldi dalle tasche ok per poi naturalmente ributtarlo su in questo momento prezzo di bitcoin siamo a 42.200 dollari quindi che cosa vedo vorrei focalizzarmi su questo vi ricordate luglio nel quale eravamo passati addirittura dai 65 mila dollari ai 30 mila dollari ok e c'era stata questa formazione avevamo preso un punto di tangenza sull'area verde naturalmente per me questa logaritmica è di fondamentale importanza dovete impararla e sembra che ora si stia verificando la stessa cosa cioè avevamo avuto un piccolo test sui 42 io vi parlavo della possibilità del retest ok nuovamente sui 42 addirittura abbiamo fatto 41.2 e quindi secondo me che cosa potrebbe succedere potremmo avere ancora circa per un mese ok nuovamente un retest quindi ma li riprendiamo facciamo un falso sostanzialmente quindi ripartiamo ma li arriviamo a 50.000 successivamente il retest per poi nuovamente prendere e andare su quindi quello che mi prospetto io e che avremo nuovamente una crescita di questo tipo in futuro ok però naturalmente non sarà così nell'immediato quindi questa è un po' l'idea quindi secondo me il target degli 80.000 andremo a prendere naturalmente il mio target resta qui e potenzialmente vi dico a questo punto per aprile ok potrebbe arrivare naturalmente io non lo so però questa rimane un po' l'idea naturalmente non sono né così finanziarie né così trading però dovesse riprodursi lo stesso movimento identico che sembra si stia riproducendo potremmo riavere questo target sugli 80.000 dollari verso aprile vedremo altra notizia molto importante ma questa è una piccola curiosità se andiamo a guardare anche i dati ok che ci sono su wabi vedete come sostanzialmente l'ethereum è l'offerta di bitcoin è fortemente scarsa guardate quanti pochi bitcoin e quanti pochi ethereum ci sono su wabi per cui questa è un'ottima ottima notizia l'ottima notizia è anche il fatto che gli address di ethereum comunque stanno crescendo sono al momento 72 milioni e per cui mentre ethereum è un caldo di prezzo però è andato a fare un nuovo oltamai quindi ottimo tra l'altro guardate qui la scarsità ok di ethereum 8.9 milioni di ethereum bloccati su ethereum 2.0 9 milioni bloccati in adefai 1.3 milioni sono stati bruciati per cui attenzione ad iter secondo me in questo momento è fortemente scontato abbiamo un prezzo di 3200 addirittura l'rsi a 30 quindi siamo in iper venduto che cosa dice la regola dell'rsi quando andiamo a 30 bisogna assolutamente comprare perché è un'ottima area addirittura il livello di 30 non lo raggiungiamo dal primo settembre 2020 quindi io vi dico quella che la mia idea è naturalmente poi siete voi ok cliccare buy cliccare sell e dovete ringraziare voi stessi oppure anche no ora andiamo a vedere alcune metriche che riguardano polkadot perché polkadot guardate qui quanto sta sviluppando rispetto ad altri protocolli soliana naturalmente sta sviluppando tantissimo anche polkadot e pian pianino anche sta iniziando terra avalanche near e la binance marchain quindi attenzione a polkadot anche che in questo momento è a 25 dollari e secondo me ve lo sto dicendo da più tempo è fortemente scontato abbiamo un ottimo supporto sui 22 dollari stessa situazione diciamo si trova soliana dopo veramente una cavalcata assurda assurda ok oserei dire in questo momento si trova 140 dollari per io credo naturalmente fortemente in soliana per cui vedremo in futuro che cosa succederà ok su sol che recentemente ok ha avuto alcuni problemi c'è stato anche un bug di 4 ore però io penso che andranno a sviluppare perché veramente hanno sviluppatori veramente ma veramente competenti l'altra notizia che vorrei riportarvi è quella anche di Jay Kurahashi ok per quanto riguarda avalanche perché guardate quanto stanno aumentando i wallet su avax ok quindi sta veramente diventando di mass adoption in questo momento prezzo di 90 dollari è andato a prendere ok la trendline ascendente che avevo tracciato quindi attenzione sempre tracciatevi sempre queste trendline perché tendenzialmente prima o poi torna di testarle e potrebbe essere da qua un ottimo diciamo un modo ok per prendere e ripartire per avax verso i suoi massimi sarebbe comunque un più bel 50% altra notizia molto importante è quella di Samsung ok che apre il mondo virtuale in particolare nel metaverso ok di Decentraland quindi attenzione anche a queste notizie bellissime notizie anche quella che riguarda Tezos perché va ad occuparsi entra all'interno del mercato degli sports ok per quanto riguarda l'NFT e infine andiamo a chiudere con Aave perché come sapete io la cito spesso ok è una coin che veramente mi piace anche se non sta performando alla grande però io penso che essa sia la piattaforma del futuro di prestiti e soprattutto poter dare soldi in prestito ad altri soggetti per cui il mondo della DeFi naturalmente andrà a svilupparsi e vedo Aave come uno dei principali pilastri ok della DeFi addirittura si andranno a unire 30 istituzioni proprio all'interno del pool di Aave per cui direi ottima ma ottima notizia in questo momento prezzi 212 vi ricordo oltamai a 668 per cui attenzione ad Aave perché in futuro potrebbe fare un grandissimo Sky Rockets attualmente vi ricordo anche i servizi che offro io se volete una lezione individuale di 30 minuti il costo è di 25 euro e in più potete abbonarvi sia al gruppo Elite se volete con un costo di 50 euro e al gruppo Premium al costo di 24 euro per cui vi ricordo di distruggere il botone di like, di iscrivervi al canale e ci rivediamo presto